Benvenuti a tutti, eccoci qua, benvenuti, benvenuti a Giuseppe, benvenuti a Ellen, benvenuti a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao, questa è una prima introduzione, non l'abbiamo mai fatta alle otto, ciao Mike. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. A te, Mike, tu ti puoi anche riposare fino, come ti ho visto, fino alle otto e trenta se vuoi, perché Mike e Marcos arriverà alle otto e mezzo. Perfetto, allora sappiate che sono online, io mi stacco temporaneamente e poi rientro poco prima. Sì, sì, così almeno stai tranquillo. Grazie a te Giorgio, ciao. Quindi facciamo questa introduzione sulle linee guida per i nuovi, per quelli che poi si approcceranno a questa straordinaria possibilità di utilizzare questa tecnologia S-Drive. Come ho detto, poi alle otto e mezzo ci sarà Marco Stento che farà la lezione proprio sull'interpretazione clinica. Io mi limiterò alla tecnica e alle linee guida che sono veramente importanti per capire come possiamo approcciare al meglio questa interpretazione dei report. Partiamo da questo presupposto e così andiamo subito alla condivisione di quello che a mio avviso non dobbiamo dimenticare. Quando noi lavoriamo sull'interpretazione della tecnologia S-Drive, dobbiamo tenere presente alcuni aspetti. Innanzi di tutto, per chi è medico, per chi è nutrizionista, per chi ha a fare con la salute, e parliamo anche, visto che ci sono dei veterinari, parliamo anche dell'approccio che possiamo avere in ambito veterinario, e è chiaro che oggi, sempre di più, le malattie sono multifattoriali, multidisciplinari, sono anche i rimedi che noi dobbiamo tenere in considerazione. Se noi solo pensassimo a quello che è il danno ambientale, il danno da inquinamento, beh, dico pensassimo perché oggi ho avuto, vi dico, sono entusiasto, felice e non sto più nella pelle perché mio nipote, il figlio di mio fratello, si è laureato in medicina poche ore fa a Bologna e con centodieci e lode. Ho visto la sua, ho assistito alla sua relazione, quindi pensate, mi sono alzato stamattina alle sei e andato là perché ho avuto da lavorare questa mattina a Bologna e poi di corsa sono arrivato qui, insomma da voi, sono arrivato praticamente venti minuti fa, a pelo, ho assistito a due relazioni. Bene, in queste due relazioni effettivamente ho detto ma qui come è possibile che in un ambito di una tesi di laurea non si tengano in considerazione le cause, le concause epigenetiche, i reali rischi congeniti, di quelle, di quello che è la patologia. In questo caso parlava di tumore, un epatocarcinoma, un tumore al pancreas, eccetera. Si parlava solo di diagnosi, quindi di strumenti di diagnosi e poi di terapia. e la stessa ammissione era quella che comunque di aspettativa di vita era molto bassa. Quindi io dico ma com'è possibile che comunque si stanno rendendo conto, questi studi lui ha presentato una tesi su uno studio clinico fatto su pazienti con patologia così importante e non si è minimamente accennato a fattori epigenetici, reali rischi congeniti, disfunzione mitocondriale, infiammazione, danno ambientale, costituzione dalla nascita. Cioè non si tengono in considerazione queste cose. Quindi la medicina sta sempre più, come ho visto, perdendo la clinica. Poi se avete un'altra opinione sono a vostra disposizione per discutere di questo. Ecco, partiamo da questo presupposto. Sono felicissimo perché ho visto veramente una relazione, vi dico, straordinaria, anche come comunicazione, quindi complimento, 110 lode, poi qualcosa di grande, però manca questo. Quindi noi, probabilmente voi professionisti, avete il compito di colmare questo gap enorme tra la malattia, ma soprattutto prima della malattia, la prevenzione e tenere in considerazione tanti aspetti. Oggi come oggi c'è ben pochissime opportunità per fare vera prevenzione. Se noi partiamo dall'esame, molti di voi lo sanno perché si occupa di medicina integrata, dall'omeopatia all'omotossicologia, alla medicina quantistica, a varie forme di terapia, ma da un punto di vista poi di prevenzione, adesso c'è di moda il test del DNA, che dico, interessante, però se poi la scienza mi dice che quello fa parte del 2,10% della nostra salute, il resto dell'80% che consideravamo prima dell'epigenetica DNA spazzatura, ne dobbiamo tenere in considerazione l'80%. E ancora una volta mi domando, dico, ma tutti noi dovremmo farci questa domanda e riflettere su quello che c'è sul mercato e dire, ma che strumenti oggi ho a disposizione per capire cosa stia succedendo a livello cellulare. In un approccio clinico integrato, che strumenti ho? O meglio, poi, che strumenti ho e che biomarker uso? Perché poi il ragionamento deve essere fatto lì. Come faccio a tenere in considerazione tantissimi strumenti che sono probabilmente utili, importanti, ma che nello stesso tempo poi non hanno il biomarker giusto, affidabile per i fattori epigenetici? Stiamo parlando di epigenetica, non di fare una diagnosi di malattia per vedere se il fegato non sta bene o il cuore. Sto parlando di cellule. Sto parlando poi che dalle cellule vado agli organi, vado ai sistemi. E quindi ecco che io oggi, probabilmente, grazie all'S Drive, posso colmare questo gap che è fondamentale, a mio avviso, in un approccio clinico integrato per un professionista. Sicuramente siamo di fronte a una tecnologia rivoluzionaria. Uno dei più grandi esperti di metabolomica, 154 pubblicazioni scientifiche, l'ho incontrato un mesetto fa a Cagliari, è il professor Fanos, sapete, ha scritto Metabolomica e microbioma, un libretto veramente interessante. mi ha detto Terziani, il futuro è sicuramente, lui è un uomo di 70 anni, 67-70 anni, anzi no, 70 e più, mi ha detto Terziani, il futuro è affidato, poi lo vedremo a quelle persone che utilizzano nella clinica anche l'intelligenza artificiale. proprio per questo fatto che io vi dicevo che le cause sono così tante, multifattoriali, che noi non abbiamo la capacità per arrivare a così tante cause con cause di un problema di salute. basti pensare all'emozione, al tutto discorso della psico-neuro-endocrine-monologia. Ebbene, allora cosa è possibile fare oggi per capire cosa stia interferendo sulla salute del paziente, quali cause e con cause, quale strumento abbiamo a disposizione per valutare questi fattori e quanti sistemi conoscete che sono in grado di dare un'informazione così completa. E' chiaro che se siete qua è perché avete deciso di utilizzare una tecnologia come S-Drive. Però vedete, la tecnologia S-Drive perché è così avanti? Ed ecco perché vi do alcuni suggerimenti, se permettetemi di... Ecco, ragioniamo anche insieme su questo, sul fatto che c'è sicuramente un problema legato alla produzione di ATP a livello cellulare dovuto a una carenza di ossigeno o non arriva l'ossigeno o c'è un problema mitocombiano. E' un apporto di idrogeno, tenetelo sempre presente. C'è una disfunzione del DNA nucleare che non viene mai tenuta in considerazione, il danno microcircolatore, il danno agricocalici, la membrana cellulare, il danno endoteliale, le carenze di vitamine, di aminoacidi, queste tutte cose che voi conoscete. ma quando io capisco con un esame magari sul sangue che c'è un problema, il problema è nato molto tempo prima. Prima c'è un danno cellulare, c'è una disfunzione mitocondriale, c'è magari un'acidosi tessutale, c'è un problema microbiota, poi alla fine gli organi non ce la fanno più, dalle cellule agli organi e vediamo poi le cose nel sangue. Quindi probabilmente questo non esclude nell'esame del sangue né nessun altro tipo di esame, sto parlando di prevenzione, di supporto, penso che questa sia una bella strategia da fare, visto che l'epigenetica è sopra punto. Quindi come uno screening iniziale per capire quali sono le priorità di intervento. Non è un test di diagnosi, ma è un test che si fa ragionare. Quindi se parliamo di vera prevenzione, di supporto, penso che diventare saggi, divenire saggi è qualcosa di interessante, come diceva Einstein. Allora ecco l'approccio come sempre diciamo, personalizzazione, beh, un report personalizzato individuale di quella persona, di quello che lo sta danneggiando e quello che gli serve per far funzionare in maniera ottimale cellule e sistemi per rimuovere le tossine predittiva, preventiva e partecipativa perché coinvolgo il paziente, il cliente. Ed ecco fondamentale questi indicatori che voi conoscete così bene. Grazie a questo biomarker che è il bulbo del capello. Ormai lo sappiamo, è un biomarker il bulbo ancora di più ma soprattutto dovete tenere presente anche che questo è un test non in vitro. Cioè, non prendete il campione lo mandate dall'altra parte del mondo o in un laboratorio. No, voi lo fate lì nel vostro studio. Quindi è un test in vivo, non in vitro perché la scansione si fa ogni entro tre minuti. Questo è un vantaggio veramente straordinario per chi si occupa di un approccio clinico integrato di prevenzione e di supporto. e ci sono come sapete vari report da utilizzare. Sistema immunitario, il metabolomico e metabolismo, il report per rigenerare le cellule, il report sullo sportivo. Vi dico già, vi anticipo che Marco Stento che segue le squadre di calcio Barcellona, Real Madrid, eccetera, eccetera, ha accettato di essere con noi il 2, il 3, il 4 febbraio a Bologna al corso di formazione con Marco Stento, Monica Greco, Bartolomeo Legrini. Saranno giornate veramente quindi iscrivetevi perché sarà un evento storico perché ha la tecnologia S-Drive. Quindi cosa dobbiamo tenere conto? Dobbiamo tenere conto che questo test normalmente si fa ogni 90 giorni. Voi potete anche utilizzare un questionario, stamparlo, quel questionario che è nel report, magari stampate anche quello a 30, 60 e 90, quegli 3, 4, 5 questionari. A mio avviso da un punto di vista di marketing e supporto e feedback e fidelizzazione del vostro cliente e paziente è fondamentale perché gli dite mentre aspettate il report gli fate compilare il primo questionario quello del giorno 1 al tempo al T0 e poi gli dite guarda compila ogni 30 giorni questo questionario. È un'arma straordinaria per coinvolgere il paziente cliente e in questo frangente i 90 giorni come si dice sempre Marco sono necessari a rigenerare e avere nuove proteine perché c'è un rimodellamento della cromatina nuovi enzimi nuovi ormoni nuove cellule nuovi tessuti. naturalmente per i medici che si occupano di patologie non si può fare ogni anche 40-45 giorni se c'è una patologia importante. Negli sportivi lo fanno ogni 30 giorni anche perché hanno un metabolismo allenamento ad alto livello molto alto e quindi gli fanno fare il test nella preparazione anche ogni 30 giorni. una volta mi dissero anche anche ogni settimana di allenamento però mi sembra un po' esagerato poi lo chiederemo a Marco e Esteban quando sarà qui in Italia. Quindi S-Drive è progettato per operare come una guida come un navigatore come un GPS se voi oggi volete andare in qualsiasi città usate il vostro Google Map o il vostro GPS della macchina per farvi portare lì e a parte se sbagliano le strade ma sicuramente non sbaglia l'obiettivo questo in cellulare se è aggiornato bene non sbaglia ma vi dice guarda dall'alto come una voi siete sopra la città vi dice guarda la chiesa è là lo stadio è là il comune è qua voi capite subito dove andare se avete un obiettivo quindi questo report non è uno strumento di diagnosi il diagnosi da qua il medico ma ci permette proprio di capire i bisogni della persona ora queste tante volte l'abbiamo fatto l'abbiamo detto sul fatto che gli esami riproducidi l'invito sono considerati in sacro grado della professione medica ma alla fine tutti gli esami vengono prescritti per quella malattia e per escludere quella malattia ti faccio fare questo esame per escludere che tu abbia quel problema però pochissimo si fa per capire i bisogni che hanno le cellule per vivere in maniera ottimale e quello che danneggia la cellula il grande vantaggio della tecnologia S-Drive unica al mondo è capire quale tipo di interferenza dei campi elettromagnetici sta danneggiando la nostra cellula cosa sta succedendo a livello dei metalli pesanti di idrocarburi di sostanze chimiche della sensibilità come avete visto al glutine quanto ne trovate i post virus quindi qualcosa di veramente importante ma il vantaggio enorme è di avere questi dati in soli 12 minuti quindi in fase di analisi faccio il test appena arriva ogni persona che entra nello studio per fare il test quando si siede se avete un assistente sicuramente ancora più veloce quando si siederà davanti a voi vi arriva nello stesso tempo nella vostra email o nel vostro software il test che avete fatto e quindi farete le vostre valutazioni in fase di analisi tra quello che dice e quello che pensate e quello che vi dice il record quindi la possibilità finalmente di incrociare i dati questo ormai è chiaro lo conoscete teniamo in considerazione questo questo fatto spesso siamo sulla ruota dei cricetti io amo questa immagine perché si fa capire veramente che se non allarghiamo la nostra capacità la nostra conoscenza se abbiamo fatto sempre continuiamo sempre a fare le stesse cose avremo sempre gli stessi risultati no? questa è una massima ormai comune però amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino guardate oggi vi ho fatto qualche vi ho portato qualche immagine importante oltre a quelle che di solito faccio vedere perché sempre più mi rendo conto che manca questa manca il tenere conto di quanto sia fondamentale tenere in considerazione la salute dei padri delle madri prima del concepimento probabilmente in medicina si dice così no? probabilmente abbiamo anche una grande responsabilità di utilizzare questo strumento per andare a vedere nelle donne che vogliono avere magari un figlio e proprio l'altro giorno ero con la Simona Nava la grande dottoressa Simona Nava sapete ginecologa a Telecolor e proprio mi diceva Giorgio quanto questo strumento la stia aiutando nell'aiutare le persone che vogliono avere un bambino e quindi in questo momento scarichiamo un'app che si chiama Avita e quando si toccano questi due straordinari cellule scarichiamo e grazie al grande dono della madre riusciamo a mettere al mondo un essere umano quindi è una responsabilità importante sappiamo che c'è un'intossicazione progressiva del liquido seminale maschile che sta portando all'infertilità al 60 70% in Europa sappiamo che stanno nascendo sempre bambini prematuri sappiamo che le malattie croniche degenerative sono in aumento fino al 40% allora noi non possiamo più continuare a continuare a contare malatti dobbiamo parlare di prevenzione dobbiamo unire le forze ecco questi sono due libri importanti metabolomica micobrioma batteri pionieri pilastri e salute ve li consiglio perché guardate sembra la storia di S-Drive leggere questo libro io mi sono emozionato di là poi dall'aspetto medico sicuramente importante ma parliamo di intelligenza artificiale parliamo di metabolomica parliamo però di un aspetto che se ci ragioniamo la metabolomica è il risultato dell'epigenetica quindi se io incomincio e anche il microbioma è il risultato dell'epigenetica la disfunzione mitocondriale è a monte di tutto quello che è il reale rischio congenito come l'ipossia la carenza di ossigeno l'infiammazione carenza di ossigeno acidosi acidosi stress sedativo stress sedativo infiammazione quindi noi dovremmo cominciare a parlare di queste cose fattori epigenetica epigenetici disfunzione mitocondriale carenza di ossigeno cosa stiamo facendo però andiamo sempre non a valle non andiamo a monte e come ci insegna questo studio questo è uno studio chiedetemi se volete se volete leggerlo questo è uno studio dell'istituto dei medici per l'ambiente virus batteri trauma ci dicono che questo è il problema che aumenta lo stress nitrossativo e ossidativo di cui ci parla sempre Marcus ci aumenta il danno mitocondriale la carenza di ATP aumenta l'infiammazione e aumenta la malattia e allora dobbiamo ragionare cosa stiamo facendo per conoscere tutti questi fattori che ormai aumentano la sensibilità chimica multipla e le persone elettrosensibili e sapete anche molto sensibilità al glutine e stress quindi sovraccarico renale stress adrenergico stress emozionale intossicazione continua additivi alimentari pesticidi cosa stiamo facendo se parliamo di aspettativa di vita per rimettirare il DNA perché se mi manca la B12 perché gli do la B6 ecco le priorità di ragionamento perché poi è chiaro che voi medici clinici professionisti voi dovete ragionare su quello che è meglio fare però è chiaro che magari c'è un problema di carenza di metilazione magari potete approfondire con omocisteina con fare un esame dell'omocisteina potete approfondire con se c'è una post virosi con tutte le IgG per vedere se effettivamente c'è un Epstein-Barr c'è un citomegalovirus o un herps eccetera eccetera una riattivazione ma se manca la B6 perché gli do la B12 e poi quanti professionisti tengono in considerazione tutti questi fattori un insieme è chiaro dal punto di vista emozionale poi ognuno fa il suo lavoro nell'apnei eccetera però poi ci sono tutte quelle carenze intossicazioni ambientali e sì emozionali chiaro che mi condizionano la telomerancia partendo dal fatto che pochi conoscono che il mitocondrio è un riprogrammatore epigenetico quindi se c'è non c'è una salute mitocondriale ottimale è un problema soprattutto a livello di DNA mitocondriale se voglio contro l'omocisteina se mi manca la B6 non gli posso dare la B12 o la B9 gli darò la B6 gli darò l'eserosimetionina oppure indagherò su un problema di MTHFR eccetera eccetera queste sono idee che cerco di trasferire e infatti grazie alla professoressa FEM stiamo lavorando a questo progetto importante per utilizzare questo con l'università di Sassari per utilizzare anzi è già partito lo studio stiamo utilizzando questo test per lo studio sui centenari nella Blue Zone direttamente a Perdas del focus quindi tra l'altro è arrivato anche in grande Marcus quindi tra dieci minuti Marcus dieci quindici minuti ti do la parola quindi il discorso qual è il discorso è che noi dobbiamo tenere proprio presente questo cioè della contaminazione ormai della vita attraverso il feto e l'allattamento ma poi nei primi mila giorni di vita cosa facciamo i ragazzi cosa facciamo nei primi duemila giorni di vita dove c'è anche una programmazione del connettoma stiamo facendo questo stiamo sprogrammando la vita a livello fetal ecco che ancora una volta la tecnologia S-Drive a mio avviso è uno dei strumenti più straordinari al mondo in grado di lavorare qui in grado di evitare poi lo vedremo ma a mio avviso facciamo molto se incominciamo a togliere l'inquinamento fare prevenzione se le morti premature sono causate dall'inquinamento e questo è un'immagine guardate l'epigenetica nei primi mila giorni guardate che dolce queste immagini che spettacolo quindi la prevenzione è cura è certo prevenire è meglio che curare e questo è quello che sta accadendo 40% della popolazione cioè 24 milioni di italiani 12.5 milioni con multimorbidità a malattie soffre di malattie croniche cosa stiamo facendo per risolvere questi problemi e sappiamo che questo è aumenta il PIL c'è poco da fare business pazzesco per tenerli malattie allora c'è un altro problema uno su 36 oggi nasce un bambino con predisposizione all'autismo un bambino su 6 tra i 13 17 anni ha avuto la diagnosi di disabilità dello sviluppo e questi sono i dati ufficiali national interview service dei USA e allora cosa vogliamo fare insieme e poi tantissimi altri dati importanti sull'alzheimer la demenza guardate previsti 152 milioni entro 2050 in Italia sono oltre 1 milione 500 milioni la nascita dei bambini con problemi congeniti gravi aumento dei tumori soprattutto una persona su due fra gli uomini e una su tre fra le donne questo è quello che ci stanno regalando questo è un altro studio importante su aumento del tumore carcinomarenale colmo noi vogliamo parlare di aspettativa di vita di qualità della vita di prevenzione di benessere questo è un test per migliorare la qualità della vita non per leggere queste pandemie in continuo aumento neoprasia da 0 a 14 anni un bambino su 400 e qui tutti gli studi obesità siamo arrivati ormai vicino all'uso agli americani e quindi ancora una volta vi ritrasmetto queste importanti quattro p da tenere in considerazione dove l'epigenetica è il programma è il software della nostra vita dove dobbiamo smettere di contare malattie 370.000 tumori maligni nel 2019 tutti i fattori di rischio li conosciamo abbiamo uno strumento straordinario per capire finalmente cosa può essere evitato per evitare i danni alle cellule e questo penso che sia qualcosa di straordinario e io mi chiedo ma chi ha la tecnologia S-Drive come mai a volte non lo usa su tutti i pazienti e io a volte dico ma come è possibile se non hai altri strumenti alla fine perché le sostanze chimiche idrocarburi radiazione metalli tossici come fai quanto ci metti con qualsiasi altro strumento per capire basti pensare che i dati ormai sono questi inquinamento epigenetica malformazioni trasmissioni alle future generazioni danni ai campi elettromagnetici danni alle cellule aumento di questa pandemia guardate beh questa la conoscete la faccio vedere sempre ma cosa vogliamo fare pulire la vasca vaccinare il pesce ogni riferimento è puramente casuale guardate l'iPhone viene sbloccato 80 volte al giorno 2600 volte al giorno noi picchiettiamo nel nostro iPhone nel nostro cellulare è una cosa veramente pazzesca questo ve lo manderò ve lo manderò quindi cosa facciamo modifichiamo il sistema dopaminergico stiamo distruggendo e stiamo condizionando i circuiti del piacere e quindi è un problema perché perché noi ci stiamo comportando così con i nostri figli appena nascono con una costante preoccupazione riguardo a introsi astinenza tolleranza mancanza di controllo che sono tutti studi scientifici che stanno dicendo stiamo sprogrammando le nostre generazioni stiamo insegnando ai bambini coi giochi a ammazzare la nonna cioè vi rendete conto ridotta attenzione e produttività quindi parlo anche per me per tutti noi stiamo parlando che aumenta l'ansia sta aumentando l'effetto depressivo sta aumentando lo stress relazionale guardate cosa sta succedendo ormai nei ristoranti disturbi del sonno e nessuno dei noi genitori per me io perché faccio sto scherzando però lo faccio spesso vado in camera tolgo il cellulare mio figlio spengo il wifi c'è niente a fare perché l'impatto dei campi elettromagnetici sta creando dei danni veramente devastati e voi sapete abbiamo la smart cad che invece può aiutare molto è un salvo vita io la considero un salvo vita quindi il futuro della medicina sarà basato sull'intelligenza artificiale purtroppo è già così oggi mi hanno fatto vedere all'università durante le lezioni le tesi di laurea hanno fatto proprio vedere l'uso dell'intelligenza artificiale nel calcolare certi parametri e certi algoritmi per intervenire o non intervenire e quale farlo capite però noi dobbiamo utilizzarla per prevenzione perché i medici non saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale no signore ma quelli che la usano prenderanno il posto da quelli che non la usano c'è poco da fare e qui ci sono tanti studi su un fatto che ci permette l'intelligenza artificiale di capire nello specifico i bisogni quando noi parliamo di linee guida questo è inutile l'avete conosciuto l'avete visto mille volte poi magari un giorno vi farò vedere anche tutto il discorso della risonanza biorisonanza ma faremo chi fa la scuola di alta formazione queste cose le ha già viste noi utilizziamo il capello perché non c'è niente da fare è un biomarker straordinario affidabile che ci permette di interagire sui bisogni a livello cellulare e conoscere viene utilizzato per i disturbi psichiatrici e grazie alla tecnologia S-Drive noi mappiamo oltre 800 marcatori tutti i certificazioni le conoscete questo è un caso interessante che il dottor Bartolomeo Alegrini ci fa sempre vedere c'è una postavirosi una virosi e le muffe analisi ematici e riattivazioni come vedete dello zoster guardate sopra i 1500 per esempio oppure questo viene confermato da anche dei esami ematici sarà un caso no? no? questo è un altro caso emozioni intestino vedete virus post virus funghi questa è anche una persona guardate di 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 insulino resistente guardate i due prima e dopo scusate la pagina dell'intestino la pagina del sistema immunitario questo come vedete post virus virus e funghi esami del sangue riattivazione Epstein-Barr guardate oltre il 600 sapete che sopra il 600 e guardate anche la varicetta addirittura qui è intervenuto anche una terapia antivirale in vena ma guardate e questo alcuni di voi l'avranno già visto questo è un paziente il dottor allegrini guardate prima 20 anni 20 anni con questo problema alopecia universale terapia fatto test s-drive terapia supporto solo dopo due mesi guardate la prima fotografia è quella attuale quindi grazie alla tecnologia s-drive grazie all'amore per la medicina grazie alla passione alla responsabilità che possiamo avere tutti insieme possiamo sicuramente fare tantissimo non dimenticatevi l'importanza di fare questo check del primo giorno questo lo trovate nel vostro report fate delle fotocopie veramente importante anche quello a 30 60 90 e incominciamo proprio a lavorare sui riepiloghi dei sistemi e quindi sono le priorità partendo dai numeri 1 2 3 4 lo vedete 1 sfide ambientali priorità quello rosso 2 vitamine priorità 3 interferenza campi elettromagnetici 4 acidi grassi essenziali 5 minerali quindi S3 mi dice guarda questa persona ha un problema sistema adrenergico ha un equilibrio microbico intestinale metrapposto ha una sintesi proteica ha un metabolismo dei miei zuccheri perché vado a vedere le priorità possibilmente elimino quei cibi dalla dieta li mangia li toglie non li mangia continua a non mangiarli no ah ma io non l'ho mai mangiati perché no ma perché allora mi segnala no questo è una incompatibilità con quei cibi quindi se non li mangia vuol dire che probabilmente non gli piacciono neanche ma sono anche incompatibili con lui in questo momento quindi si consiglia di toglierli e poi qua vi dà ancora una volta le priorità e le specifiche dove intervenire sulle varie carezze a livello intracellulare e questo non lo faccio vedere le linee guida quindi sono come si fa un test drive ormai lo sapete quindi questa parte la salto poi questo documento naturalmente per chi me lo fa richiesta è un mio regalo di Natale lo mando compreso qui quelle diapositive iniziali che vi ho fatto vedere e qui avete tutte le linee come interpretare tutta la linea di come interpretare la tecnologia il report s drive come partire quindi stasera abbiamo un maestro quello che ha creato il report dove avremo Marco Stento che si farà la lezione e vedremo come mettere in pratica proprio queste linee guida che trovate pari pari passo passo su questo documento è chiaro che da qui poi parte la vostra straordinaria professionalità e esperienza in un approccio clinico e poi naturalmente poi ognuno fa quello che ritiene giusto partendo da delle priorità di intervento che si segnala la tecnologia s drive è un acceleratore ma è anche qualcosa che va in profondità ci permette di intervenire nelle priorità del paziente nella personalizzazione della persona poi voi potete poi approfondire con qualsiasi altro sistema analisi è chiaro questo non sostituisce nessun tipo di altra analisi ma ci fa ragionare e qui avete un esempio vedete vitamine verdi vedete che sono piene il sistema antiossidante è pieno ma è consigliato quando voi è da tenere magari ci ragionate poca considerazione lo vedete contornato quando è pieno invece tenetelo molto in considerazione e lo stesso nei fattori ambientali quando invece non c'è nessun tipo di spicchio né contornato né pieno non tenetelo in considerazione in quel momento non è prioritario per quel paziente per quella persona è molto importante il punteggio vedete in questo caso se voi avete la pagina del sistema immunitario è molto importante che siccome qui è 70 è il doppio del massimo e quali sono quei numeri alti che mi richiedono attenzione nei vari carenze o sistemi danno ambientale in questo caso vedete i numeri alti sono il 22 il 14 poi c'è anche il 9 5 il 4 il 6 ecco andate a vedere di mettere a posto queste cose lui vi dice dove intervenire è la stessa cosa nel sistema cardiossircolatorio e la stessa cosa nel sistema gastrointestinale e quindi poi potete leggere questo documento per capire l'azione specifica delle varie vitamine e del perché poi bisogna intervenire prima di tutto come ci insegna sempre Marco Stentor nel togliere il sovraccarico tossico che sta danneggiando la cellula capire perché quella persona non rimuove quei metalli pesanti o quelle sostanze chimiche il sistema antiossidante il sistema gastrointestinale è una sensibilità al glutine eccetera eccetera c'è una disbiosi questo lo sapete molto bene quindi intervenire in maniera tenete sempre presente che i campi elettromagnetici non si vedono ma creano una un danno veramente forte a livello disbiosi intestinale flora batterica danno mitocondriale danno alla membrana cellulare eccetera 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 al tessuto al sistema nervoso al ritmo sonnoveglia tenete presente queste cose non è un test per le allergie un test di sensibilità contro questi cibi che è meglio limitare e la cosa straordinaria è avere a disposizione un test che permette di capire l'intossicazione anche di additivi alimentari quindi intervenire con un sistema un approccio nutrizionale se siete nutrizionisti medici nutrizionisti insomma ti consigliare in modo personalizzato come sapete poi alla fine del report ci sono i cibi e ci sono le carenze l'elenco delle carenze i cibi dove potete trovare quei nutrienti togliendo quelli che lui ha segnalato che sarebbe meglio non mangiare e quindi permette di rigenerare le cellule in modo personalizzato personalizzato individuale queste sono tutte le certificazioni ecco direi che poto fare un ripasso una panoramica soprattutto per i nuovi prima di ripassare la parola direi al papà dei report e magari può in sé il grande Bartolo Bartolo eccolo qua aspetta Bartolo che ti do la parola voglio salutare anche te stasera la campagna